Mi sta in una serata fantastica cominciata con la Sampdoria che come avevi detto si difendeva molto bassa ma il Verona si è dimostrato una grande squadra, ha avuto pazienza e poi ha saputo colpire. Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita, intelligente, quando giochi queste partite così ravvicinate devi avere pazienza, noi abbiamo sempre avuto l'idea di quello che dovevamo fare, abbiamo cambiato 5 giocatori, quasi il 50% della squadra da primo minuto, molti che non giocavano, quindi è proprio la vittoria della squadra. L'ho detto anche ai primi colleghi, voglio proprio fare un complimento a Simon Laner, che è un po' l'anima, non aveva mai giocato, 10 minuti, è questo, è lo spirito della squadra, quindi al di là dei singoli, dei giocatori che hanno fatto bene, come Luca Toni, Gua Guanito, credo che proprio lo spirito della squadra abbia vinto questa partita e Simone rappresenta questo. Stai guardando la classifica, lasciando perdere, le parti alte che sappiamo non ti piace tanto, sono comunque più 13 punti, aspettano la partita di domani sulla zona salvezza, è comunque una buona posizione. Sì, ma la classifica è buonissima, siamo molto contenti, però noi viviamo la giornata, dobbiamo giocare con la Sampdoria, pensare a questa partita e così faremo da domani, penseremo al Cagliari, chiaro che sarebbe proprio da pazzi non essere contenti, siamo molto molto contenti e niente, ci godiamo questa serata, poi sarebbe bello pensare già al Cagliari, insomma, che è sera comunque questa qui, bisogna sempre stare lì, tutte le partite sono difficili e stasera è una partita molto difficile e sono molto molto contento dell'atteggiamento della squadra. I numeri però parlano chiaro, questo è un Verona in casa, impressionante, lo stesso riunione di marcia di Juventus e Roma, al di là poi, insomma, squadra e non proprio le ultime arrivate. Vabbè, ma noi non dobbiamo fare questi paragoni, noi dobbiamo pensare a casa nostra, noi siamo contenti di vincere le nostre partite davanti al nostro pubblico e basta, tutti gli altri paragoni a noi, a me, praticamente non interessa, sì, posso essere orgoglioso di questo, essere paragonato a queste grandi squadre, ma noi viviamo il nostro momento e siamo contenti per noi, per la nostra gente e per tutti quanti, ecco. In cosa questo Verona secondo te può ancora migliorare, visto che insomma, dici sempre che gli spazi, no, ci sono tanti, i margini sono ancora tanti. Sempre, bisogna migliorare in tutti gli aspetti, l'aspetto difensivo, infatti siamo molto contenti che non abbiamo preso gol, su pali inattivi, in generale possiamo fare meglio nello sviluppo, possiamo migliorare tutti, la condizione di qualcuno un po' meglio, perché insomma cinque non giocavano, oggi hanno giocato, quindi mettono un po' di partita e ci sarà spazio e tempo per tanti altri giocatori, però ripeto, questa è la vittoria della squadra, sono fatti trovare pronti magari giocatori che non pensiamo di giocare, quindi è questo che mi rende più orgoglioso, chiaro che la vittoria è ancora di più, però questo mi sa proprio capire che sono pronti, si allenano bene. È bello sottolineare come sugli spalti ci sia stata comunque una serata bellissima tra due tifoserie che si vogliono bene. Beh, è bello, sembrava tutto strano, però bello, 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 ma sì, infatti sapevo di questo, so, conosco di questo gemellaggio, quindi siamo molto contenti, abbiamo vinto noi, però bello, una bella serata, il clima giusto e niente. Sarebbe bello fosse sempre così, ma purtroppo, ahimè, non è così e va bene lo stesso. L'ultima battuta, non lo diciamo per piageria, ma questa sera Mandorlini ha indovinato tutto, ha indovinato la formazione iniziale, ha indovinato i cambi, a 20 minuti della fine ti sei preso anche un rischio di cambiare due giocatori, sei rimasto senza cambi, però Romulo ha spostato sulla destra, i turbi sulla sinistra, hanno dato tanta copertura, hanno stenuto sempre comunque in apprezzione i terzini nella Sampdoria, si va a casa soddisfatti. Ma quello che ho detto prima, al dià di Mandorlini, è la vittoria della squadra, loro si allenano, loro preparano le partite, io gli dico cosa devono fare, però è l'atteggiamento loro che mi fa vincere, non è tanto le scelte, perché sono tutti giocatori affidabili e quindi può giocare uno l'altro e oggi è stata la dimostrazione, insomma abbiamo cambiato, ripeto, il 50% nessuna squadra che lo abbia fatto oggi e quindi questo vuol dire che il lavoro non solo mio, ma tutto lo staff, la società è importante e siamo contenti. Grazie Ministro, complimenti.